Parte il progetto NERBUS, un progetto finalizzato alla sperimentazione di trattamenti a base di onde elettromagnetiche sui malati di Charcot-Meritouth. La malattia è una delle più diffuse malattie rare, colpisce il sistema nervoso periferico e specialmente gli arti inferiori. Ne esistono due varianti principali, la CMT1 demilienizzante e la CMT2 assonale. La prima colpisce la guaina che riveste il nervo, la seconda colpisce le fibre che costituiscono il nervo. Entrambe diminuiscono la capacità dei nervi di stimolare i muscoli che di conseguenza diventano più deboli. Si tratta di una ricerca open source, cioè i risultati saranno divulgati a chiunque ne mostrerà interesse e vorrà dare il suo personale contributo. L'iniziativa nasce dalle sperimentazioni che ha fatto su di sé negli ultimi dieci anni Gabriele Gasparrini, 51enne di Appignano, che da 49 convive con la malattia. La malattia si è manifestata all'età di due anni, poi mi ha seguito tranquilla fino ai 30, ai 30 ho avuto un aggravamento marcato e da lì piano piano sono finito sulla sedia a rotelle. Dalla sedia a rotelle ho iniziato a studiare un po' meglio la malattia e soprattutto il perché dell'aggravamento. Per tutte le informazioni è possibile consultare il sito nervus.org